Scrivi l'equazione del fascio individuato dalle due circonferenze gamma 1 e gamma 2 aventi lo stesso raggio lungo radice quadrata di 10 sapendo che i loro centri si trovano sulla retta dell'equazione y uguale 2 e che il centro di gamma 1 ha ascissa meno 3 mentre quello di gamma 2 appartiene alla bisettrice del primo e del terzo quadrante rappresenta gamma 1 e gamma 2 e determina domanda A l'equazione dell'asse radicale domanda B la circonferenza passante per il punto di coordinata 0,4 domanda C le circonferenze tangenti all'asse X allora molto facile questo problema, un po' lunghetto magari ci dicono che queste due circonferenze di cui vogliamo l'equazione gamma 1 e gamma 2 abituatemi ragazzi, soprattutto quelli che provengono dal liceo scientifico a prendere di mistichezza con le lettere dell'alfabeto greco la gamma è la C che corrisponde alla C dell'alfabeto italiano gamma 1 e gamma 2 il raggio è la radice di 10 per entrambi il centro è molto semplice perché ci dice che le ordinate dei due centri quindi C con 1 ha sicuramente ordinata 2 eppure C con 2 ci dicono che i centri stanno sulla retta Y uguale 2 quindi è evidente che l'ordinata di entrambi sia 2 va bene non solo ma ci dicono che la gamma 1 ha scissa meno 3 e questa avrà scissa 2 perché ci dicono che in gamma 2 mentre quella partiene alla bisettrice del primo retto 40 vi ricordo che la bisettrice del primo retto 40 è la equazione Y uguale X Y è 2 oppure X è 2 2 è 2, non è 3 e 2 sono le coordinate sono le coordinate dei due centri ovviamente basterà a questo punto applicare la formula classica X meno al quadrato più Y meno 9 al quadrato uguale R al quadrato quindi diamo un X per gamma 1 X più 3 al quadrato più Y meno 2 al quadrato uguale 10 per gamma 2 X meno 2 al quadrato più Y meno 2 al quadrato uguale 10 vediamo allora sviluppiamo i quadrati in entrambe le equazioni X quadro direttamente più Y quadro abbiamo un più 6X e abbiamo un meno 4Y poi portiamo il 10 al destra diventa meno 10 abbiamo un 9 più 4 è 13 meno 10 è 3 ecco la prima non c'è risultato andavo a cercare se c'era la seconda è X quadro sicuramente più Y quadro sicuramente meno 4X meno 4Y senza dubbio 4 più 4 è 8 meno 2 uguale 0 sarebbe no? perché portiamo anche qui il 10 al sinistra quindi 4 4 è 8 8 è 10 meno 2 le rappresentiamo su GeoGebra lo faccio vedere eccole qui 12 conferenze di centri meno 3 è 2 raggio 10 è 10 non ve lo faccio qua altrimenti faccio male a qualcuno potrei offendere la sensibilità di qualcuno per evitarlo lo vedete qui a questo punto ci dicono di rappresentare la gamma l'abbiamo fatto ovviamente dobbiamo scrivere scrivere l'equazione del fascio utilizzato da gamma 1 e gamma 2 lo facciamo abbiamo un X quadro più Y quadrato più 6X meno 4Y più 3 più H per esempio che moltiplica X quadro più Y quadro meno 4Y meno 2 uguale 0 come al solito scriviamolo bene scriviamolo qua il fascio il fascio sarà H più 1 che moltiplica X quadro più sicuramente H più 1 che moltiplica Y quadro stesso discorso poi abbiamo un X che moltiplica 6 meno 4H più Y che moltiplica un meno 4H meno 4 terminato che è un meno 2H più 3 3 meno 2H uguale 0 scritto in piccolo il fascio è questo fascio di circonfezze di generatrice appunto circonfezze di generatrice la gamma 1 e gamma 2 potremmo calcolare il centro raggio al valore di H che è un valore reale spodiamo subito la prima domanda troviamo cioè l'equazione dell'asse radicale vi ricordo che si ottiene ponendo H uguale meno 1 quindi se ne va a questo se ne va a questo quando H è meno 1 viene un 10X sicuramente questo è 0 perché sarebbe meno 4 come 1 che fa 4 meno 4 0 0 per Y 0 10X più 5 uguale 0 raccogliendo un 5 fattore comune deviene un 2X più 1 uguale 0 infatti un X uguale meno un mezzo che è proprio l'equazione dell'asse radicale lo si poteva vedere se si tratta di rappresentare su GeoGebra le due circonferenze si vedeva come effettivamente le due circonferenze fossero due circonferenze tangenti e l'asse radicale è la tangente comune quindi X uguale meno un mezzo è proprio l'equazione dell'asse radicale abbiamo risposto alla domanda A domanda B è una domanda classica ci chiedono abbiamo già risposto ad un altro problema la circonferenza quella circonferenza del fascio in particolare che passa per il punto di coordinate 0,4 cosa dobbiamo fare? dobbiamo sostituire alla X il valore 0 alla Y non la coordinate del valore 4 otteniamo H trovato H lo mettiamo lì e troviamo la circonferenza richiesta quindi lo mettiamo la X viene 0 quadro è 0 0 per H più 1 è 0 viene un 16 per H più 1 quindi un 16H più 16 se X è 0 non c'è questo se Y è 4 viene un meno 16H 4 per meno 4H 4 per meno 4 e un meno 6 se ne vanno questi due sono opposti rimane in pratica solo il terminato che è 1 più 3 meno 2H uguale a 0 in pratica 6 e meno 6 se ne vanno sono opposti 6H e meno 6H se ne vanno sono opposti otteniamo che 2H è uguale a 3 H uguale a 3 mezzi H uguale a 3 mezzi che quindi possiamo andare a sostituire nell'equazione del fascio vediamo cosa viene fuori vediamo che qualche ciconferenza viene quella che passa appunto per il punto 0,4 3 mezzi più 1 e 3 mezzi più 2 mezzi viene un 5 mezzi di X quadro più 5 mezzi di Y quadro sempre 3 mezzi più 1 dunque verrebbe un 6 meno dunque questo viene in 0 perché viene 6 meno 12 mezzi ma meno 12 mezzi è 6 6 meno 6 è 0 0 per X è 0 quindi non c'è quello poi viene un meno 4H dunque viene un meno 12 mezzi quindi un meno 6 meno 4 viene un meno 10Y e infine quando H è 3 mezzi viene un 3 meno 3 è 0 perché eh sì avrebbe un meno 2 per 3 mezzi e un meno 3 3 meno 3 è 0 quindi viene questo non faccio altro che moltiplicare per 2 entrambi i membri ottenendo un 5X quadro più 5Y quadro meno 20Y uguale a 0 a questo punto divido per 5 punto quanto ottengo l'equazione della circolazione richiesta circolata del fascio che è passante per il punto 0,4 che è l'equazione cartesiana X quadro più Y quadro meno 4Y uguale a 0 ecco qua circolata per altro di centro infatti di centro tra l'altro 0,2 è passante per il punto 0,4 fate la prova e verrà così infine domanda C che conclude questo problema non difficile per una verità ci chiedono le circonferenze tangenti all'asse X dunque per risolvere questa ultima domanda si può fare in vari modi o mettiamo a sistema visto che ci dici che ci convenza che apparterà questo fascio possiamo mettere a sistema il nostro fascio con l'asse X che vi ricordo l'equazione Y uguale a 0 mettendo al posto di in questa equazione Y uguale a 0 in pratica ci viene che H più 1 per X quadro più X che moltiplica 6 meno 4H più 3 meno 2H uguale a 0 se andiamo a imporre che il delta discriminante in questa equazione risolvente in X di secondo grado sia uguale a 0 troviamo i valori di H si potrebbe fare così l'altro modo lo scegliamo questo l'altro è quello di ricordarsi che la distanza del centro di quella circonferenza del fascio dall'asse X è uguale al raggio no? siamo d'accordo? e questo potrebbe essere certamente un modo possiamo però fare con questo chiaro l'ho fatto in pratica ho messo a sistema l'equazione dell'asse X con l'equazione del fascio al posto di Y uguale a 0 ho eliminato il termine con Y visto che Y è 0 ecco l'equazione risolvente tra l'altro la riscrivo meglio H più 1 per X quadro qui combina da colline un 2 più 2X che moltiplica un 3 meno 2H guarda caso più 3 meno 2H uguale a 0 e devo imporre che il discriminante sia 0 può fare così insomma francamente altrimenti appunto gli altri melodi ma quello che vi ho accennato ma francamente in questo caso dovrei fare questo delta quadro vuol dire che ridotto delta quarti uguale a 0 per esempio quindi vuol dire fare meno B mezzo al quadrato in pratica vuol dire fare il quadrato di 3 meno 2H due due se ne sono andati meno C vuol dire fare meno H più 1 per 3 meno 2H e vedete che viene un'equazione secondo quadro in H infatti ci parlano di circonferenze sdoppiamo questi quadrati il quadrato di primo è 9 il quadrato di secondo è 4H al quadrato meno 12H è sicuramente il doppio prodotto fra il primo e il secondo termine poi andiamo a fare questo prodotto viene un meno 3H qui meno 3H più 2H al quadro sarebbe un H per meno 2H per meno 2H al quadro per un meno davanti 2H al quadro meno 3 è sicuramente più 2H tutto quanto uguale a 0 cioè un meno davanti non ricordo in pratica viene un 6H al quadrato 4H al quadro più 2H al quadro meno 13H sì perché sarebbe meno 12H meno 3H e un meno 15H meno 15H più 2H e un meno 13H termine noto è un 9 meno 3 6 brutta equazione vediamo cosa avviene vediamo cosa ci viene fuori beh qui le vedo vediamo se dunque graficamente poi avresti potuto notare una cosa un pochino più veloce immediata in questo caso facendolo così lo si fa tranquillamente in maniera algebrica non è sbagliata assolutamente formula risolutiva classica H1,2 ve lo ricordo è meno B quindi 13 più o meno B quadro è il quadrato di 13 che vi ricordo è 169 meno 4C vuol dire fare un viene 6 per 6 36 viene fare un 36 per 4 faccio in pratica è un meno 144 e 44 diviso 2A vuol dire diviso 12 2 per 6 13 più o meno questo è 25 radice di 5 è 5 13 più o meno 5 diviso 12 è corretto comunque il passaggio che ho fatto ho scelto di fare di applicare di scegliere questa strada dunque 13 più 5 fa un 18 il primo valore è 18 dodicesimi il secondo valore è un 8 dodicesimi se non mi sbaglio 13 più o meno 5 fa 8 allora posso questo dividere per 6 e questo è 3,5 quindi un valore di H è 3,5 che tra l'altro è lo stesso valore di H che abbiamo trovato prima quindi una circonferenza delle due è questa qua quindi ritroviamo di nuovo quella che abbiamo trovato a punto B perché anche qui H è 3,5 nel secondo caso divendo per 4 viene 2 terzi questa volta H uguale 2 terzi questa volta andiamo a studiarlo lì ripeto abbiamo trovato H uguale 3,5 che già prima avevamo trovato quindi nella stessa circonferenza quella che è passata sostanzialmente per il punto 0,4 quella che aveva centro 0,2 vi ricordate trovato l'altro H una circonferenza è questa che poi è quella che è il punto B x quadro y quadro meno 4 y uguale 0 e l'altra vediamo qual è quella ottenuta sostituita dal posto di H nel fascio 2 terzi 2 terzi più 1 è un 2 terzi più 3 terzi quindi un 5 terzi di x quadro più sicuramente 5 terzi di y quadro poi abbiamo un attenzione facciamo i conti allora 6 meno 8 terzi verrebbero tutto per x che è stato fatto un 2 terzi per meno 4 quindi viene un 18 terzi meno 8 terzi e un più 10 terzi x vediamo lì invece cosa viene calcolacci e basta niente niente di spaventoso abbiamo un meno 4 quindi meno 8 terzi sempre meno 4 per 2 terzi meno 4 questo viene un meno 20 terzi y perché sarebbe un meno 12 terzi meno 8 terzi e un meno 20 terzi e infine viene un più 3 meno 4 terzi 5 terzi eh sì 9 terzi meno 4 terzi 5 terzi non credo di essermi sbagliato ma eventualmente come al solito scrivetemi sotto quello che vuoi tranne le parolacce se possibile a questo punto andrei a beh moltiplicherei per 3 quinti per 3 quinti entrambi abbiamo metto questa equazione 3 quinti per 5 terzi è 1 quindi viene x quadro 3 quinti per 5 terzi y quadro è un y quadro 3 quinti per 10 terzi è un 2 più 2x infatti meno 4y 3 quinti per 1 meno 2 terzi più 1 uguale 0 eccola qua l'altra equazione sono due quindi le ciconferenze tangenti alla 6x sono la prima x quadro y quadro meno 4y uguale 0 ottenuta per h uguale 3 mezzi la seconda x quadro più y quadro più 2x meno 4y più 1 uguale quella ottenuta per h uguale 2 terzi tra l'altro faccio notare che la prima delle due ciconferenze x quadro y quadro meno 4y uguale 0 l'avamo già trovata rispondendo alla domanda relativa al punto B quella cioè dove ci chiedeva l'equazione della retta l'equazione della ciconferenza passante per il punto 0,4 abbiamo risolto faticosamente un pochino tra voce e influenza questo problema ecco qua